Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog di Mio Star News, sempre con Ariadops e Carlo. Innanzitutto come prima cosa vi volevamo ringraziare perché abbiamo raggiunto e superato i 100 iscritti sul nostro canale YouTube, anche se noi ovviamente puntiamo a numeri... Vabbè, almeno a mille, lo ha qui certo. Esatto, almeno a mille. E Carlo, cosa ci racconti di questa settimana? È stata una settimana molto intensa e partirei subito con una bellissima notizia per gli amanti di Giulia Penda perché è inciso un singolo con Tony Maiello, che potete ascoltare nel vostro articolo e dirci la posta su come vi è sembrato. E a proposito di coppie, perché diciamo che ce la siamo anche un po' immaginata, la coppia Giulia Penda e Tony Maiello, vi abbiamo anche parlato in un articolo delle coppie più belle dei social. Ce ne sono alcune che sicuramente già conoscete, ma ce ne sono anche altre che potete scoprire insieme a noi. Io che sono innamorata mi sono a seguirle tutte su Instagram. E invece, a proposito di nuovi talenti, questa settimana vi proponiamo un canale piuttosto particolare e sto parlando di oggetti che parlano. Ok, non vi voglio confondere, andate a documentarvi sul nostro articolo perché praticamente questo canale YouTube va a mostrare a noi spettatori i pareri nascosti di orologi, vc, cartigenica. Insomma, anche loro hanno il diritto di parlare e noi non ci tocca che scoprire cosa hanno da dirci. Assolutamente. Poi questa settimana vi ho parlato di una pagina Facebook che ha dovuto un po' interrompere la sua attività, ovvero di non uscire il sabato per guardare un giorno in pretura. Il programma interview è ricominciato e c'è stata un'intervista alla conduttrice del programma, quindi dovete andare a scoprire un po' le news e cosa è successo alla pagina Facebook. Grazie per averci seguito anche questa settimana, continuate a seguirci perché ne vedremo ancora delle belle. Seguiteci anche sui nostri social, vi lasciamo tutti i link giù nelle info box e ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao! Ciao!